Buongiorno, sono dottor Stauser, Eugenio, medico chirurgo, psicoterapeuta e mi occupo di medicina preventiva, nel senso che utilizziamo apparecchiature come lo Sdrive, come altri, la Viva, per analizzare la composizione corporea delle persone e in funzione di questo dare una corretta integrazione dal punto di vista nutrizionale. Utilizziamo anche uno dei prodotti che vanno molto bene per l'ossigenazione dei mitocondri, il cellulare, che è il self-food e in questa ottica l'utilizzo dello Sdrive, che è un test epigenetico, ci permette di andare a coprire quelle che sono i deficit, le carenze nutrizionali della persona stessa e ci permette di ottenere in pochi minuti, in 12-15 minuti, una relazione completa di come sta il corpo e l'organismo della persona, non solo. Anche le emozioni, questo è importante, come psicoterapeuta mi piace sottolineare come le emozioni vanno a influenzare poi anche l'assetto corporeo, la capacità metabolica della persona e il vivere quotidiano della persona stessa. La mente e il corpo non sono qualcosa di distinto, sono qualcosa di estremamente unito, che va letto nella sua completezza e quindi non possiamo pensare a una mente che sta bene se il corpo sta male, come non possiamo pensare a un corpo che stia bene se la mente sta male. E qui un po' il concetto di base della componente che una volta veniva chiamata psicosomatica e che al giorno d'oggi, con termini un po' più moderne, viene chiamata epigenetica. Quindi tutto quello che va a influenzare il benessere psicofisico della persona e tutto quello che noi, da un punto di vista terapeutico, possiamo fare per far sì che questa persona poi stia meglio.